Tempo Reale, speciale elezioni. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo venerdì 9 maggio che chiude la nostra prima settimana di speciale elezioni e la chiude chiudendo anche i candidati del comune di Riccione. Ieri abbiamo aperto la parentesi su Poggio Toriana con i tre candidati in lizza per le amministrative della nuova comune nato da qualche mese. Oggi torniamo appunto a Riccione e diamo il buongiorno al candidato della coalizione di centro-sinistra Fabio Ubaldi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di aver accolto il nostro invito. Partiamo subito un po' da questa candidatura. Fabio, dove nasce anche la scelta a questo punto possiamo dire del centro-sinistra di puntare su di lei? Innanzitutto parte da una primaria, diciamo così un po' a sorpresa dove non c'era nulla di programmato. Io ero in quel momento il segretario in essere. E da cosa nasce cosa? Si è reputato ci fosse magari bisogno di... il Partito Democratico ha questo strumento che sono le primarie, che sono uno strumento democratico per eccellenza e noi l'abbiamo sfruttato a pieno. Poi dopo agli elettori è stata data la possibilità di scegliere e il risultato è stato questo. E' un problema che hanno avuto tutti i candidati. Poi sono alto. Esatto. Quindi insomma, dalle primarie questa candidatura entrando in una campagna elettorale che da subito ha mostrato anche una certa complessità. Perché se diciamo che a Riccione, questo forse è anche importante ricordarlo, il centro-sinistra, il Partito Democratico ha sempre avuto una forza molto importante. Quest'anno davvero si va verso le amministrative con un sapore diverso dalle altre. Da 60 anni il centro-sinistra ha segnato il passo nella città di Riccione. C'è una difficoltà, nel senso che sono cambiati un po' i tempi. Non ci sono più le roccaforti e io questa la reputo veramente una fortuna, anche perché crea uno stimolo. Uno stimolo che probabilmente bisognerebbe sempre avere. In ogni quinquennio dovrebbe esserci una tendenza al migliorarsi. È normale che è stato fatto tanto, è normale che in tempo di social network si enfatizzano probabilmente più le cose negative che positive. Forse qualcosa dal punto di vista della comunicazione abbiamo anche sbagliato, ma è stato fatto tanto, forse non comunicato. Si può fare di più? Assolutamente sì. Partiamo allora con le priorità per la città di Riccione. Abbiamo chiesto un po' a tutti i candidati, insomma, rapidamente, ma quali sono le due o tre cose sulle quali puntare da subito? Sì. Allora, innanzitutto noi l'abbiamo chiamata una rivoluzione turistica. Abbiamo degli strumenti che stiamo sviluppando, ma abbiamo già consolidato, tra virgolette. Uno è Riccionet, che è una piattaforma che mette allo stesso tavolo la parte concreta dell'amministrazione, i cittadini e soprattutto le associazioni di categoria. Quindi il turismo in generale dovrà avere una tendenza all'internazionalizzazione, che questo credo sia veramente il cambio di passo. D'altro canto, allo stesso modo, le infrastrutture dovranno essere valorizzate. Riccione è stato fatto tanto, abbiamo un congressuale, abbiamo un'opera in corso, un'unifrastruttura che è in corso d'opera. Abbiamo delle scelte strategiche, saranno quelle della viabilità, una rivisitazione degli strumenti urbanistici. Ecco, queste sono le priorità che ci siamo dati in questo momento. Riportare un po' Riccione al centro, dopo che forse Riccione ha perso un po' il suo smalto, proprio perché in questo momento, in tempo globale, mantenere il fatto di essere un po' l'icona, anche per tanti aspetti, come è stato nel passato, non è semplice. La crisi e la globalizzazione hanno cambiato un po' tutte le località, soprattutto quelle turistiche. Oggi come oggi, se noi pensiamo, Sharm El Sheikh anni fa non esisteva, nessuno sapeva dove fosse, però se noi vogliamo fare concorrenza a questo tipo di mete abbiamo sbagliato. Riccione non è che deve essere una località d'elite, deve essere aperta a tutti, è un turismo per le famiglie, è un turismo per i giovani, per il divertimento. È normale che questa città dovrà avere una nuova identità, quindi dovranno essere studiati dei segmenti, e noi lo abbiamo fatto, delle aree, delle zone dedicate, proprio per dare questa identità aperta a tutti. Riccione è per tutti. È normale che bisogna avere delle regole, ma soprattutto farle rispettare. Non solo balneare, ma anche cercare di destagionalizzare, quindi, il tutto turistico. L'obiettivo principale è la destagionalizzazione, lo dico dai tempi delle primarie, io punto tantissimo al nuovo comparto termale, anche perché credo che sia determinante nella prospettiva di una destagionalizzazione tutto tondo, sarà per l'ambito turistico, così che pure per il commerciale, che disegnerà nuovi asset strategici all'interno della città, e noi ripartiamo da questo, ripartiamo proprio dalla destagionalizzazione. In questo senso il congressuale, a Riccione un palacongressi che è nato, che è stato anche sostenuto a suo tempo da diverse forze politiche, poi con sé ha portato una serie di problemi. Ecco, come guarda proprio la realtà del palacongressi in questo momento? In modo direttamente proporzionale è stato fatto un palacongressi, mentre dall'altra parte il congressuale andava calando, le difficoltà sono oggettive agli occhi di tutti, non c'è credo un congressale inattivo se non mi risulta in Cina. Anche perché in questo senso è cambiato anche il mercato, anche sul congressuale. Una volta i congressi si facevano, poi è arrivata la crisi, i congressi si fanno... Poi due palacongressi così vicini. Sì, sì, così vicini. Però Riccione, credo che sia, quello di Riccione credo sia una struttura importante. Oggi c'è, e io dico sempre cosa facciamo, lo buttiamo giù, no, assolutamente, va valorizzato e c'è un piano di valorizzazione. Da dove si parte? Dalla promo commercializzazione. È lì il vero tallone d'Achille, forse, perché nell'ultimo anno solare sono stati messi a posto i conti, in maniera tra l'altro anche egregia. È stata fatta una spending review e in questo momento i conti sono in ordine. Ora c'è bisogno di un cambio di passo. Quella è una struttura che ha una capacità di modulazione veramente enorme e soprattutto è sito in centro. Anche il nodo, Ubaldi, è stato un po' il tema della gestione, del palacongressi, anche su questo, insomma, si è discusso tanto, perché tante voci che dicevano diamolo agli operatori del territorio perché lo possano valorizzare. Poi c'è questa componente forte a livello pubblico. Che cosa pensa? Io penso che bisogna, sicuramente andranno favoriti gli operatori locali, però è anche vero che l'identità, la prima cosa è quella di un'identità più vicina forse a una gestione privata. C'è bisogno che quella struttura renda. Io forse da piccolo imprenditore e quindi rispettando la categoria credo che serva l'efficienza di una privato. Quindi indipendentemente da questo però il pubblico dovrà monitorare e essere insomma un lavoro di coesione. Questo dovrà essere l'identità del palac. Nasce imprenditore lei, nella vita fa questo, insomma la politica l'ha sempre accompagnata, credo insomma che sia militante del Partito Democratico da tanto tempo, però ecco sicuramente anche questa parte lavorativa imprenditoriale è fondamentale. Imprenditori e riccione. Imprenditori a riccione, imprenditori e amministrazione. Sì, nasco lavoratore più che imprenditore, rimango lavoratore perché... Il tempo poi si cresce, si diventa anche imprenditori. Si fa imprenditori a un'attività di 15 collaboratori. Però questo secondo me siamo a una chiave di volta. È normale che in questo momento serva più un input imprenditoriale. Allontanavo un attimino il microfono. Esatto, rimanero così, perfetto perché altrimenti troppo vicino. Quindi insomma input, insomma è importante per gli imprenditori avere un'amministrazione che li aiuta perché il problema è che tutti gli imprenditori... Quello della burocrazia. Esatto, infatti. In questi giorni, tra l'altro, insomma adesso neanche in polemica troppo accesa, c'è stato, insomma ho fatto una nota sugli albergatori perché si sono schierati diciamo con il centro-destra. È una scelta che non ho condiviso, ma nel senso che rispetto pienamente, ma non posso condividere perché in questo momento noi stiamo dando un'offerta tra l'altro più vicina a loro rispetto al passato. Quello che però non posso condividere è una presa di posizione di un'associazione di categoria che cura gli interessi di una categoria di scendere in politica. Credo che sia fondamentalmente sbagliato a priori. Parlare di burocrazia introduce anche il tema della macchina comunale, insomma, come farla funzionare al meglio. Sono tanti, tra l'altro i numeri ce li hanno dati già alcuni altri candidati, i numeri insomma dei dipendenti e anche del comune di Riccione. Come riuscire a ottimizzare tutte queste risorse? Tra virgolette, chiamiamo l'azienda, è l'azienda più grossa che abbiamo a Riccione e l'efficienza deve essere gestita così come in ambito imprenditoriale e deve avere una resa migliore. E questo è normale. Io credo, e ho parlato con molti dipendenti comunali, e vorrebbero sentirsi professionisti comunali, ma questo dipende anche da una sana gestione. È normale che ci sono dei ruoli che andranno rivisti, ma soprattutto, come in tutte le organizzazioni aziendali, si riparte dall'organigramma. L'organigramma dovrà essere studiato, gli interpreti dei ruoli cardini dovranno essere mirati. Io ho già in testa una chiara identità di quello che sarà il prossimo organigramma e le persone, tra virgolette, che ne faranno parte. Parlare di Riccione in questo momento, benché noi ci teniamo a dire che non è solo questo, è parlare anche di TRC. Veramente è diventato un po'. Sembrava che a Riccione in queste settimane esistesse solo il problema del TRC. In questo senso il Partito Democratico, il centro-sinistra, porta con sé anche le decisioni prese in tempi lontani. In che modo Fabio Baldi si è inserito, anche rispetto al progetto? Io rispetto al progetto ho sempre avuto una posizione molto critica e poi in questa fase, cioè in un momento caldo come questo, dove bisogna andare al concreto, ho cercato di capire quali erano tutte le strade percorribili. E credo che alla fine debba prevalere la serietà e la coerenza, ma soprattutto la prospettiva. Il TRC, se viene discusso come un segmento attaccato alla litorale ferroviaria, si può essere d'accordo. Il TRC sì, il TRC no. Allora lì va bene un comitato. Io vedo il TRC come un'infrastruttura a sistema all'interno della città. Io sono per il trasporto pubblico locale, sono per la diminuzione delle auto, sono per un'opera che è già stata già pagata e sulla quale abbiamo fatto e ottenuto delle modifiche sostanzialmente stravolgenti rispetto al progetto iniziale. Diceva però che partiva da un po' una posizione critica, una criticità, un pensiero critico soprattutto legato a che cosa, Ubaldi? Un pensiero critico legato al servizio, nel senso che secondo me doveva esserci un servizio diverso. È normale che se il TRC fa da stazione di Riccione alla stazione di Rimini, non ha una valenza, non ha un plus, soprattutto per Riccione. La nostra teoria era quella di stravolgere il percorso, di farlo diventare una riqualificazione urbana tutto tondo, di dare dei plus, di ripiantumare e ricreare l'area verde che andava tolta sulla linea ma soprattutto nella linea rimetterla. Quindi oggi tra l'altro dopo il vostro incontro avrò una conferenza stampa, sembra fatta a pennello ma il tema è il TRC e oggi potrebbero cambiare parecchio le cose. Ecco che cosa, tanto ce lo anticipo, si tratta di qualche minuto, almeno qualche elemento, ma qualche input su come anche migliorare questo progetto perché lei dice serietà vuole che a questo punto insomma non si buttino via i soldi anche che si stanno investendo. Assolutamente, ha detto anche il ministro Lupi, se non sbaglio, quando è intervenuto. È stato un po' stravolto da qualcuno però Lupi ha detto quello che ha detto Epifani a me due giorni fa e ha detto quello che la coscienza dovrebbe far prevalere a ognuno. Quindi noi abbiamo già, Riccione ha speso 6 milioni e 200 mila euro, 280 mila euro, quasi 6 milioni e 3 sul TRC. Quindi è già pagato, manca credo 250 mila euro una cavolata. Però per un'opera come questa, ottenere il massimo risultato possibile, che vuol dire arrivare fino alle terme e prospettare un collegamento con la fiera, ma soprattutto in previsione del fatto che la stazione di Riccione verrà sempre più declassata perché l'alta velocità verrà presa da un ceto medio basso, ma farà capoline a Rimini per forza di cose. Noi soprattutto dovremo anche cambiare i target di promo commercializzazione nel comparto commerciale dei parchi e quant'altro li faremo a Rimini. Ecco cosa cambieremo. Noi andremo a prenderci i turisti a Rimini. Ecco cosa cambia. Siccome è un'opera, credo, che non sia nata per fare un favore a Riccione, probabilmente ha favorito più Rimini, qui non è un'ondata campanilistica, sto solo facendo oggettivamente una questione di cambio di progetto, cambio di programmi, adeguamento, soprattutto trarre addirittura vantaggio dal TRC, perché io punto a trarre vantaggio dal TRC. I turisti si fermeranno a Rimini, diciamo, poi attraverso il TRC arriveranno nei punti salici. Molti si fermeranno a Rimini, diventerà fondamentale il ponte di collegamento, tra l'altro stiamo studiando anche dei collegamenti, con l'aeroporto di Rimini, perché sarà fondamentale, con la stazione di Rimini, perché sarà fondamentale. Poi ci saranno delle zone strategiche, abbiamo individuato tre aree di maxiparcheggio, dove il turista, perché la vera chiave di volta, sarà la decongestione della zona mare. Quindi Ubaldi, in qualche modo, per sintetizzare, Fiera di Rimini, Terme di Riccione, un percorso del TRC, e poi da lì, in certi punti strategici, delle altre soluzioni di collegamento con i punti nevralgici del territorio. Riqualificazione urbana, riqualificazione perché gli immobili che abitano nei pressi della struttura avranno un aumento di valore. Anche perché in questo momento, e sinceramente, girando per Riccione, in questo momento il cantiere, soprattutto nella zona di Spontriciolo, questo muro di cemento, poi è chiaro, siamo in cantiere in corso, crea qualche disagio nelle persone che abitano lì vicino. Sì, non solo di Spontriciolo, perché poi alla fine, continuo a ripetere che non è solo il TRC Riccione, ha molto di più, per carità, e questo va concettualizzato. Però è anche vero che noi abbiamo dei rendering, e li abbiamo sviluppati proprio sul cantiere di Riccione. Oggi li esibiremo, domani li vedrete sulla stampa, questi giorni gireranno. Ci sono rendering, dati e dati di fatto, perché poi anche le piante, la questione piante, purtroppo è fine a se stessa. Quindi partendo da quello che c'è già, una riqualificazione a tutto tono di quella zona, questo è quello che state pensate. Diventerà il volano per una riqualificazione, sarà messo a sistema in una città che trarà vantaggio da quest'opera. Una città che trarà vantaggio, appunto, dalle infrastrutture fondamentali, una città che vive di mare, ancora lo possiamo dire, che è il nostro bacino fondamentale. Ecco, sulla spiaggia, nel rapporto anche con chi fa attività sulla spiaggia, i nostri operatori, che cosa sta pensando? Ma anche sulla spiaggia bisogna, cambieranno le tendenze. Fra 5-10 anni cambierà tanto, anche perché gli operatori da spiaggia saranno coloro i quali potranno intervenire direttamente nell'incoming turistico attraverso dei software e quant'altro. Succederà quello che sta succedendo per gli operatori, gli albergatori e i bagnini. Cambierà tanto perché c'è una volontà di valorizzare quello che è il turismo regina da noi, che è il turismo balneare. Per quanto riguarda poi la lotta all'erosione, noi ci siamo esposti a tutto tondo, io mi sono esposto parecchio. È un tema molto dibattuto in questi giorni. Ecco, ci racconti un po' la posizione, anche per chi non ha seguito e non segue tutti i giorni la stampa. Da qualche mese attiva anche il sabbiodotto sulla venile aviccionese. Il sabbiodotto serve, ma è normale che debba innanzitutto funzionare a regime, e lì sono un po' critico, perché dovrebbe funzionare molto meglio, però non è una soluzione radicale. Io è da mesi che sto parlando di V-Mesh, un sistema, o parlando di TechnoRift, comunque di barriere soffolte che sono di ultima generazione. È normale che però è un problema particolare, c'è un gioco di correnti, ce ne sono più di una. Non è facile, ci vogliono degli ingegneri e degli esperti nel settore. Vanno fatti dei test. Io ho aperto assolutamente a qualsiasi tipo di test in acqua, e quindi c'è una volontà politica. Questo è forse il vero camion. C'è da parte mia una grandissima volontà politica nell'affrontare il problema dell'erosione. Ubaldi, l'ambito sociale, Riccione per tanto tempo, e credo ancora oggi per tanti aspetti, lo abbiamo detto anche con gli altri candidati, ha rappresentato davvero un'attenzione particolare per tutto ciò che è sociale, quindi per i servizi, per le persone anziane, per i bambini. Insomma, in questo senso si è sempre stati molto attenti. Crescono anche le esigenze, cresce la povertà sul territorio riccionese. In questo senso l'area che lei rappresenta, come pensa anche di poter incrementare, se possibile, in questi tempi dove i tagli rendono davvero molto difficile, poi la copertina è sempre più corta. Abbiamo deciso di incrementare i fondi proprio perché il sociale ha una priorità. Ha una priorità già per il centro-sinistra e per la storicità del centro-sinistra. In questo momento dovrà essere più spiccata, dovrà prevalere un senso civico e quindi anche di responsabilità soprattutto verso e nei confronti di chi del sociale in questo momento sta soffrendo. Abbiamo in difficoltà 400 famiglie che non arrivano alla fine del mese. La Caritas è strapiena. Abbiamo buttato giù le basi per un banco degli alimenti perché poi la questione alimentare diventa una necessità di primo ordine. E sul sociale si sta facendo tanto anche per gli anziani, i centri di buon vicinato. Basta pensare a questo strumento fantastico che dà la possibilità di passare del tempo e di condividere del tempo alle pensioni anziane. I bambini con una rivisitazione totale del sistema scuola, con dei concetti architettonici di assistenza soprattutto perché abbiamo un sacco di bambini che hanno la DSA, il diabete e non sempre ci sono i sostegni dal punto di vista regionale. Quindi noi abbiamo un'apertura totale a coprire alle esigenze di primo ordine. Scuola per tutti al 100% e sostegno per tutti al 100% sin da bambini. Per chi è già comunque all'interno, lei è stato in consiglio comunale, insomma cosa si può migliorare all'interno anche della gestione dell'amministrazione? Ma secondo il mio punto di vista innanzitutto è sempre una questione di rapporti. E come ci si rapporta con le persone. Una macchina amministrativa è una piccola azienda, a chi non piace sentire questa parola però è la verità e dà una resa in modo direttamente proporzionale al tipo di rapporti che si creeranno. Si dovrà creare un rapporto di fiducia reciproca ma di resa aumentata. È quello che succede nelle attività dove ci si alimenta a vicenda, dove si fanno gruppi e dove si condivide una certa filosofia. Non voglio dire che in comune ci dovrà essere una filosofia aziendale, ci dovrà essere una filosofia di gruppo volta a favorire quelli che sono i primi ad averne giovamento, che sono i cittadini. Quindi noi siamo una località dell'hospitality. Il cittadino all'interno dell'amministrazione comunale deve sentirsi a casa sua, a tutti gli effetti, nelle tutele e nel servizio. In questi incontri che avete con i cittadini già da qualche tempo, come vede i riccionesi anche nei confronti della politica? Ma i riccionesi, come tutti gli italiani, sono un po' dissuasi. C'è un preconcetto politico sbagliato. Io però ho una teoria che penso sia sempre valida, cioè che agli errori della politica si risponde con la buona politica, non con la polemica. Per me è un errore grave, è quello di arrivare veramente in certe situazioni dove a prevalere è il pregiudizio personale più che il concetto politico della persona e quello che esprime. Quindi insomma una politica che sicuramente deve fare riconoscere la buona politica. Forse diciamo che rispetto anche ad altre realtà, ad altri partiti, il Partito Democratico che a Riccione ha governato per tanti anni, forse deve ancora dimostrare di più in questo momento, in questo momento storico così complesso. Tutti danno la caccia al PD per evidenti motivi e al sottoscritto in modo direttamente proporzionale. Però è anche vero che questo è un partito, ripartiamo dall'inizio, che ha degli strumenti per potersi mettere in discussione. Noi lo abbiamo fatto, per chi non lo avesse capito e chi non è ferrato in materia politica, qui c'è un partito che ha rimesso in discussione un sindaco dopo cinque anni. Solitamente un sindaco fa due legislature, due mandati. Non è una nota dolente per Massimo che è il sindaco uscente, ma è proprio un valore aggiunto, cioè che questo partito ha saputo rimettersi in discussione, lo rifaremo tutti i giorni, la mia mentalità è quella di rimettere in discussione me stesso ogni volta che esco di casa. Quindi l'espressione del partito ora è questa, è quella di dare un senso più civico al PD. Forse quello che è successo intorno ha avuto un riflesso positivo nel PD, il PD ricionese si sta distinguendo per questo, io sono convinto che il tempo dia i suoi frutti. Anche perché ricordiamola è una coalizione quella di centro-sinistra, anche molto ampia. Esatto, è molto ampia perché ha delle forze di tradizione, ha delle forze che sono molto attaccate al tessuto che dicevamo prima, al sociale e quant'altro, poi ha una visione, quella sempre del PD, che non è il fulcro centrale, però non lo sappiamo già di principio, è il partito più ampio e più grande, però deve essere un punto di riferimento, un collante, non un partito sestante. Sono coese queste forze, perché spesso quando si vedono coalizioni ampie c'è anche il problema, insomma, della... Chi mi conosce sa che sono molto schiette diretto. Le coalizioni neonate non potranno essere coese al 100%, ma c'è questa diversità che, se ben sfruttata, è un valore aggiunto, è un plus, non è una minusvalenza. Io credo che invece bisogna lavorare molto sui rapporti, sui rapporti schietti, efficienti. Ecco, io parto da qui. Nei rapporti diretti con i miei collaboratori dico quello che dico alle categorie. Facciamo due passi indietro per farne quattro avanti. Rinunciamo a qualcosa di personale per un ideale collettivo. Questo è quello che sto portando a casa mia. Le mie decisioni le sto prendendo da mesi. Qualcuno è contento, qualcuno non è contento. Forse non ero il candidato che qualcuno si aspettava, ma sono una garanzia in più per i cittadini. Mancano pochi istanti alla fine, però, Valdi, proprio una battuta su un altro tema tanto riscusso a Riccione, che è quello delle partecipate. Le famose partecipate, le poltrone delle partecipate, un sistema che è sempre andato così, anche lì sicuramente è tempo di cambiare. Zero poltronifici. Ho parlato di casa di vetro quando parliamo del comune, proprio per indicare la trasparenza che stiamo inseguendo. Sui poltronifici io sono serenissimo, nel senso che non ci saranno, se io sarò il sindaco, dubbi, perché le mie scelte saranno fatte sul merito, non sul credito. Quando uno si espone ci si gioca alla faccia, me la gioco volentieri. L'ho fatto quando ho fatto le primarie. Oggi ho ancora un'agenda in bianco per quanto riguarda la futura giunta. Le scelte saranno fatte sul merito e non sul credito, competenza e quant'altro. Se qualcuno non fosse d'accordo dentro e fuori casa mia, io credo che alla fine prevarà la maturità e la necessità di condividere qualcosa a favore della città. Allora, chiudiamo con un appello al voto e alla partecipazione a tutti i cittadini. Come sempre, non chiederò mai, non l'ho fatto dalle primarie oggi, votate, mi chiedo, informatevi, cercate di avere dati tangibili e riscontrabili, ma soprattutto votate con la razza e non votate con lo stomaco. Noi ringraziamo davvero Fabio Baldi per essere stato con noi. Buona campagna elettorale. Speriamo che lo sia davvero, perché in queste ultime settimane poi insomma c'è anche da stare con le spalle ben alte. Lo dico per tutti, perché insomma sappiamo che non è così semplice. Grazie davvero, buona campagna elettorale e grazie di essere stato con noi.